Gesù, incendiario del cuore, capace di cogliere l'inquietudine dei giovani Andrea e Giovanni che incontra sul Giordano, in grado di spiazzarli e di renderli i suoi discepoli fedeli. Così Papa Francesco, in un passaggio della Catechesi dell'Udienza Generale in Piazza San Pietro, dedicata alla memoria della vocazione che ravviva la speranza. È triste, ha affermato il Pontefice, vedere giovani in pensione, svuotati dall'inquietudine tipica di quell'età che non si pongono domande di senso. Il segnale per capire la propria vocazione, matrimonio, vita consacrata e sacerdozia soggiunto è la gioia dell'incontro con Gesù. Gli uomini e le donne che lo seguono hanno nel cuore il vento della netizia, sono missionari che custodiscono negli occhi l'uccichio della vera felicità e che nonostante le durezze della vita sono capaci di ripartire grazie a quel sacro fuoco che li ha accesi una volta per sempre. Non diamo retta alle persone delusse e infelici. Non ascoltiamo chi raccomanda cinicamente di non coltivare speranze nella vita. Non fidiamoci di chi spegne sul nascere ogni entusiasmo, dicendo che nessuna impresa vale il sacrificio di tutta una vita. Non ascoltiamo i vecchi di cuore che soffocano l'euforia giovanile. Andiamo dai vecchi che hanno gli occhi brillanti di speranza. Coltiviamo invece sane utopie. Dio ci vuole capaci di sognare come Lui e con Lui, mentre camminiamo ben attenti alla realtà. Sognare un mondo diverso e, se un sogno si spegne, tornare a sognarlo di nuovo, attingendo con speranza alla memoria delle origini. Grazie. 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 Grazie.